Siamo nell'anno della fede e quest'anno il vicario della zona, Monsignor Giovanni Vincini, che è il parroco di Fiorenzuola, ha ritenuto bene di fare quello che si è fatto anche qui in città, cioè le parrocchie della città si sono trovate in Sant'Antonino per ripetere l'atto di fede e fa memoria della prima evangelizzazione. Così anche a Velleia sono invitati almeno i cittadini che sono nelle vicinanze a partecipare a questa festa che impegnerà non solo i parrocchiani di Velleia ma anche quelli delle parrocchie vicine. Oltre che a valorizzare questo centro, l'impegno è per valorizzare anche un altro centro importantissimo che è Bobbio. Ci sono fatti tre cammini di fede.